Musica Ben ritrovati con il TG Oggi News, in apertura ci occupiamo dei saldi che nella regione Campania scatteranno domani, un avvio posticipato rispetto agli anni passati, ma non mancano come ogni anno le polemiche. Vediamo il primo servizio. L'attesa sta per finire, la Befana porta nella calza i tanto desiderati e per certi versi contestati saldi. Per la verità il regalo della vecchina con la scopa arriva con un giorno d'anticipo rispetto all'epifania, perché già domani, 5 gennaio, scatteranno le vendite a prezzi ribassati. La Campania è tra le regioni che si sono allineate al calendario nazionale, mentre poche altre hanno deciso di posticipare l'inizio dei saldi, una scelta che molti commercianti condividono, adducendo la ragione che i saldi nel periodo a cavallo tra il Natale e l'epifania frenano il consumo ed inducono la clientela ad attendere qualche giorno prima di spendere. Per di più le associazioni di categoria chiedono controlli rigorosi per evitare che alcuni negozianti pratichino prezzi a ribasso anche prima dell'inizio degli sconti invernali. Basta dare uno sguardo alle vetrine della City per constatare che da giorni gli sconti sono già applicati, magari con qualche formula particolare. I veri saldi cominceranno domani ed andranno avanti fino al 6 marzo, mentre la sessione estiva sarà racchiusa nel periodo luglio-agosto. L'assessore regionale delle attività produttive, Amedeo Lepore, ha confermato la disponibilità della regione Campania ad aprire un tavolo di confronto con gli operatori del terziario per recepire istanze ed esigenze degli stessi. L'attesa dunque sta per finire. Da domani chi ha preferito rimandare alle compre potrà sbizzarrirsi. In verità le previsioni non sono entusiastiche. Secondo l'ufficio studio di Confommercio, infatti, ogni famiglia in occasione dei saldi invernali 2017 spenderà 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. La stime che gli italiani spenderanno più o meno mediamente come nell'anno precedente. Il 5 gennaio i saldi, il 6, la Befana, che ha già fatto visita però al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. La nonina ha portato calze e giocattoli ai piccoli della cooperativa Filiderbi. Filiderba, tanti sorrisi ed entusiasmo. Se Babbo Natale è arrivato dal cielo nella caserma dei Vigili del Fuoco di Salerno, la Befana ha utilizzato la sua preziosissima scopa per raggiungere i locali del comando provinciale del quartiere Sant'Eustacchio, dove stamani ad accoglierla c'erano i bambini della cooperativa Filiderba di Salerno. È stata una mattinata di festa per i caschi rossi che hanno festeggiato insieme ai piccoli l'arrivo in anticipo della Befana. La vecchia signora ha accolto i piccoli e condividendo insieme ai pompieri un momento di gioia ed allegria, tanti sorrisi, dolci, calze e giocattoli grazie all'impegno e alla volontà dei caschi rossi guidati dal comandante Emanuele Franculli di realizzare una giornata speciale solidale. È il secondo anno che arriva anche la Befana perché oramai sono tantissimi anni che arriva sempre Babbo Natale e sono già due anni invece che arriva la Befana dei Vigili del Fuoco. L'anno scorso la Befana è andata a trovare questi nostri amici più bisognosi. Quest'anno invece i bambini vengono da noi e la Befana la incontrano presso il comando dei Vigili del Fuoco. Un'occasione particolare di vicinanza alla città. Lo ricordiamo, il comando ormai insiste in una zona molto popolosa della città di Salerno. Il comando dei Vigili del Fuoco di Salerno è perfettamente integrato nella realtà salernitana non soltanto del comune ma della provincia di Salerno e riusciamo perfettamente a coniugare quelle che sono le richieste di soccorso tecnico urgente a quelle che sono momenti di solidarietà ben consapevoli del fatto che un Vigili del Fuoco non deve soltanto portare soccorso ma deve portare anche un sorriso dove è necessario e portare una parola di speranza a persone che in questo momento si sentono disperate. I bambini che oggi incontrano la Befana sono tanti bambini del quartiere ma sono tanti bambini anche delle associazioni del territorio. Sì, soprattutto questa giornata è dedicata a quei bambini che vivono nelle case famiglia e che vivono quindi un momento di disagio e quando mi riferivo prima a una parola di speranza vorrei darla soprattutto a loro fare intendere che non sono soli non sono abbandonati c'è lo Stato a loro fianco in questo caso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che secondo me meglio interpreta questa capacità dello Stato di portare solidarietà. Sempre una grande emozione per i bambini vedere la Befana ma anche un grande entusiasmo vedere gli uomini in divisa che ogni giorno aiutano in tante situazioni di emergenza. Guardi, noi facciamo un lavoro meraviglioso soprattutto perché abbiamo la fortuna di fare un lavoro che i bambini desiderano fare da grandi e quindi quando vengono da noi si avvicinano alle istituzioni e noi continuamente li incontriamo non soltanto nelle occasioni come quella appunto della festa del Natale o dell'Epifania ma durante l'anno spesso andiamo nelle scuole e cogliamo l'occasione per spiegare loro quelli sono i comportamenti corretti da tenere e per far capire che esiste uno Stato sano che sta a loro vicino. L'anno scorso è stato un anno straordinario perché noi abbiamo effettuato 14.400 interventi di soccorso tecnico urgente che rappresentano il doppio della media nazionale questo a dimostrazione del fatto che la nostra provincia è una provincia straordinaria bellissima ma complessa complicata con tante criticità. Un pranzo interreligioso nel segno della pace ancora una volta l'Accademia Internazionale d'Arte e Cultura Alfonso Grassi di Salerno al fianco della Mensa dei Poveri San Francesco guidata da Mario Conte per un altro appuntamento all'insegna della solidarietà. Un pranzo interreligioso nel segno della pace 150 pasti preparati nel segno della solidarietà così questa mattina ancora una volta l'Accademia Internazionale d'Arte e Cultura Alfonso Grassi di Salerno ha voluto sostenere la Mensa dei Poveri San Francesco di Salerno guidata da Mario Conte. Accompagnati dalla Presidente Raffaella Grassi gli artisti dell'Accademia hanno voluto trascorrere una giornata con gli ospiti della Mensa servendo ai tavoli insieme ai volontari del Centro di Accoglienza del Rione Carmine ed offrendo agli ospiti una giornata diversa con tanto di musica in compagnia dei cantautori Vincenzo Pagliare e Mino Remoli che hanno eseguito e cantato il loro tradizionale repertorio. Noi ci possiamo limitare a uno o due volte all'anno perché è una bella spesa consistente facciamo diciamo così più o meno conteggiamo 150 persone poi quando sanno che c'è questo pranzo in particolare l'affluenza è maggiore per cui anche nei chili nella quantità maggioriamo perché il responsabile cuoco della struttura Mario Conte sa bene come gestire diciamo le cose anzi lui ci dà un quantitativo noi aumentiamo di più perché ce l'aspettiamo che c'è questi commensati questi fratelli più svantaggiati arrivano in queste occasioni in abbondanza questi momenti riempiono il cuore a voi dell'associazione un momento di solidarietà per quanti hanno difficoltà proprio a poter pranzare a casa un momento anche per sensibilizzare un po' la cittadinanza per chi può ad aiutare queste strutture che fanno tanto per il territorio allora molto francamente fare questa raccolta collaborare per queste per queste menze eccetera qualsiasi forma di solidarietà non è che riempie il cuore devo dire la verità mi intristisce mi fa piacere solo e ci fa piacere solo se vediamo un sorriso sul loro volto questo sì alla fine sì però anche quando si fa la spesa quando si fa questa raccolta c'è un magone nell'anima non è che ci sentiamo gloriosi assolutamente diciamo che nella Grassi ogni anno si è rinnovato anche quest'anno per il quarto anno che praticamente offre un pranzo particolare per i nostri ospiti e anche allietato da un po' di musica e quindi noi siamo ben felici di questi eventi positivi per noi un'occasione per far sentire un po' il clima delle feste anche alla mensa dei poveri certamente questo sarebbe stato bello a Natale però purtroppo non è stato possibile ma l'essenziale che si faccia è come un peccatore l'essenziale che si penta come si procederà nei prossimi giorni nel giorno della Befana la mensa resterà aperta regolarmente noi il giorno della Befana siamo chiusi perché non abbiamo pane e i servizi pubblici a Salerno non funzionano siccome vengono dalla zona industriale molti di questi ragazzi non possiamo purtroppo stare aperti riuscite a dare dei sacchetti di asporto nemmeno quello certamente noi già stamattina abbiamo fatto oltre 60 passi prima di aprire in più ci mettiamo quelli là che chiedono loro per la sera quello che possiamo quello che facciamo se ci aiutano ecco ne possiamo aiutare chissà allora che chi ci ascolta non possa rendere possibile l'apertura della mensa anche per il giorno della Befana ma è un po' difficile perché ripeto anche io voglio andare le stesse non hanno il pullman non avendo la macchina io voglio lanciare un appello ringrazio tutti quelli che hanno partecipato per la mensa e voglio suonare un campanellino per quelli là che purtroppo si sono dimenticati o perché stavano in vacanza o per altri motivi l'invito a venire da noi a donare qualcosa perché la mensa si è aperto 365 giorni ora la cronaca intorno alle 5 di questa mattina alcuni poliziotti in servizio presso la sezione volanti della questura di Saverno sono intervenuti in via Ienne in seguito alla segnalazione di un incidente stradale tra due veicoli giunti sul posto gli agenti hanno constatato che nell'incidente non rimasse coinvolte un'autovettura e un'autoambulanza del servizio di soccorso pubblico il conducente dell'autovettura privo di documenti sia personali sia del veicolo è stato identificato per un 49enne nato a Napoli i poliziotti avendo notato il suo apparente stato di ubriachezza l'hanno sottoposto al test con etilometro che ha dato esito positivo il 49enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica l'autovettura da lui condotta inoltre risultata priva della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile e per tale motivo è stata sottoposta a sequestro è durato oltre due ore l'interrogatorio del sindaco di Agropoli Franco Alfieri dinanzi al PM che indaga sull'ipotesi di istigazione al voto di scambio dopo l'incontro napoletano in cui il governatore De Luca pronunciò le famose frasi in cui invitava gli amministratori presenti a votare a far votare per il sì al referendum è stato ascoltato dai PM della procura di Napoli il sindaco di Agropoli Franco Alfieri il fatto riguarda quanto è accaduto all'hotel Ramada di Napoli lo scorso 15 novembre quando il governatore De Luca pronunciò le famose frasi in cui invitava gli amministratori presenti a votare e far votare per il sì indicando il sindaco Franco Alfieri quale esempio da seguire nel fare clientelismo la procura indaga sull'ipotesi di reato di istigazione al voto di scambio e l'unico sotto accusa è il governatore Vincenzo De Luca su quelle frasi ieri è stato sentito proprio il primo cittadino agropolese che è stato a colloquio con il PM Stefania Buda che coordina l'inchiesta oltre due ore è durato l'interrogatorio durante il quale Alfieri ha ribadito che si è trattato di una battuta pesante pronunciata in una riunione seria ma è stata fatta da un amico e De Luca è fatto così ha precisato il primo cittadino quella riunione ricorda il sindaco di Agropoli fu organizzata per invitare gli amministratori a interessarsi al referendum come accade normalmente e ribadisce che non c'è nulla a che fare con il voto di scambio poi sul referendum Alfieri parla di un risultato scontato indipendente dal polverone alzato da quelle frasi su Agropoli in particolare ha sottolineato che ha inciso il malcontento per l'ospedale chiuso e per altri fatti che prescindono dalla politica nazionale e ora ci spostiamo a Cava dopo mesi di polemiche ed accesi scontri tra maggioranze e opposizioni in consiglio comunale è stato pubblicato il bando per l'affidamento in concessione ed uso dell'immobile di proprietà comunale da ex mercato coperto di Viale Crispi destinato a diventare un centro per l'artigianato digitale è stato pubblicato il bando per l'affidamento in concessione ed uso dell'ex mercato coperto di Viale Crispi immobile di proprietà comunale destinato a diventare un centro per l'artigianato digitale l'obiettivo è quello di attivare una struttura che possa far crescere piccole attività artigianali fornendo loro formazione e tutoraggio sull'utilizzo delle tecnologie proprie dei cosiddetti Fab Lab come la prototipazione rapida ovvero la realizzazione a partire da una definizione matematica tridimensionale dell'oggetto è la Digital Fabrication al bando possono partecipare i soggetti che sono abilitati all'esercizio dell'attività professionale inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale e che abbiano svolto con buon esito per almeno un triete o nell'ultimo lustro servizi analoghi a favore di antipubblici o privati è richiesto inoltre un fatturato globale per gli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno 150.000 euro il canone annuale è stato fissato in 4.200 euro che però sarà oggetto di rialzo d'asta in sede di gara sulla base di quanto indicato nel piano di gestione sarà il comune di Cava dei Tirreni a provvedere all'acquisto di attrezzature e macchinari necessarie all'allestimento del Fab Lab per un massimo di 90.000 euro la concessione durerà 5 anni e sarà rinnovabile per ulteriori 5 anni come stabilito lo scorso novembre al termine di un'accessa discussione in consiglio comunale durante la quale la minoranza evidenziò una serie di problematiche di natura tecnica tra le quali l'assenza di un sistema di areazione che riguardavano l'ex mercato coperto l'amministrazione comunale si è riservata il diritto di affidare la concessione della struttura solo dopo l'avvenuta positiva verifica da parte degli uffici competenti dei requisiti strutturali e funzionali dell'opera i lavori di restaring per la trasformazione in centro per l'artigianato digitale dell'ex mercato coperto il cui attuale valore è di poco superiore ai 643.000 euro sono stati finanziati dall'Unione Europea Niente allasmismi e confusione tra influenza e meningite lo spiega Giulio Tarro infettivologo del primario merito al Cotugno parlando di vaccini influenza paura e caos dovuti ai casi degli ultimi tempi vediamo No agli allarmismi a dirlo il professore Giulio Tarro virologo di fama internazionale dopo la psicosi che in questi giorni si è divulgata in tutta la campagna senza risparmiare la provincia di Salerno e l'agronocerino da più fronti era arrivato il medesimo invito esperti e camici bianchi avevano sottolineato che non si può parlare di epidemia essendo infatti nella media di 30 casi l'anno si è nella norma ma il professore Tarro non si limita a dire noi gli allarmismi in un lungo post affidato al social network Facebook dà le dovute spiegazioni su contagio e terapia parla innanzitutto dei sintomi la malattia dice si presenta nella forma classica con febbre spesso elevata rigidità nucale arti inferiori a canne di fucile forte mal di testa ipersensibilità cutanea talvolta convulsioni e paresi dei nervi cranici e degli arti per la sua attualità quella che interessa di più è la meningite cerebro-spinale epidemica che si differenzia con difficoltà da altre sindrome di natura simile tarro sottolinea inoltre l'importanza della diagnosi precoce le forme batteriche delle meningiti se diagnosticate in tempo e curate precocemente si concludono infatti con la guarigione mentre spiega tarro ad essere più pericolosa è quella da apneomococco in quanto è a decorso più rapido la malattia colpisce soprattutto i bambini sotto i 5 anni poi gli adolescenti e di giovani tra i 17 e di 22 anni un terzo picco va da 65 anni in poi tarro spiega che negli USA esistono tre vaccini contro i sierogruppi A, C, Y e W ed un vaccino combinato per bimbi tra 6 settimane e 18 mesi che protegge contro i sierogruppi C e Y ed ora vi è stata l'approvazione di un ulteriore vaccino la risposta dopo la seconda dose va dal 63 all'88% Torniamo su un caso che si è verificato a Sapri dove è morto un anziano come fanno sapere i familiari da denuncia il loro congiunto è morto appunto all'ospedale di Sapri non a Vallo della Lucania dove si era recato al pronto soccorso l'anziano oltre 80enne deciduto dopo il trasporto da un ospedale all'altro per l'assenza di posti letto e quanto denunciano i familiari non hanno prestato a mio padre la giusta assistenza e quanto denuncia Lucia Ferraro il padre Antonio 89 anni è deceduto lunedì mattina era affetto da gravi problemi cardiaci e respiratori ma è deceduto a Sapri e non a Vallo della Lucania dove lo aveva portato l'ambulanza reanimativa del 118 in quanto era l'ospedale più vicino ad Agropoli mio padre si è sentito male nel pomeriggio del 29 dicembre aveva un'insufficienza respiratoria racconta Lucia il personale del 118 l'ho rianimato stabilizzato e intubato abbiamo chiamato l'ospedale di Salerno ma non c'era posto per cui è stato trasportato all'ospedale più vicino quello di Vallo dove è arrivato intorno alle 16 eppure benché fosse in codice rosso secondo la denuncia dei familiari non è stato trattato l'equipe del 118 ha continuato a ventilarlo a mano su una barella del pronto soccorso mentre i medici dell'ospedale dicevano che non potevano prenderlo perché non c'era posto mio padre denuncia ancora la famiglia era in codice rosso e in ogni caso avrebbero dovuto fargli qualcosa invece non gli hanno preso nemmeno la pressione dopo circa un'ora è arrivata la notizia della disponibilità di un posto all'ospedale di Sapri e l'anziano è stato portato lì i medici di quell'ospedale racconta la figlia lo hanno preso in cura ed è stato subito meglio era stato persino estubato però purtroppo non ce l'ha fatta comunque il caso dell'uomo che in codice rosso non è riuscito a trovare un posto nell'ospedale più vicino a quello di Agropoli ha suscitato subito malcontento e polemiche ancora una volta dicono in molti Agropoli conferma la necessità di avere un proprio presidio ospedaliero la protezione civile della campagna informa che si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature con intensificazione delle precipitazioni nevose in particolare impulsi d'aria gelida accompagnati da forti venti provenienti dai settori nord orientali determineranno da domani giovedì 5 gennaio e almeno fino alla giornata di domenica 8 gennaio precipitazioni a prevalente carattere nevoso e gelate notturne persistenti anche a quote pianeggianti i fenomeni interesseranno inizialmente le zone appenniche le aree interne della regione a quota superiore a 700 metri d'altezza per poi estendersi progressivamente a tutto il territorio regionale interessando quote inferiori fino ai rilevi della zona costiera e localmente anche le zone pianeggianti ci fermiamo ora per la pubblicità a tra poco con le altre notizie eccoci nuovo in studio buone notizie per quanto riguarda il mare del Cilento acque pulite cristalline anche nel 2017 gli ultimi dati dell'Agenzia regionale per la produzione ambientale confermano l'eccellenza delle acque del litorale cilentano Nel Cilento acque pulite cristalline anche nel 2017 la regione Campania ha approvato l'elenco della classificazione delle acque di balneazione per la prossima stagione estiva sulla base degli ultimi dati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale il litorale cilentano è quello con più punti d'eccellenza di tutta la campagna e risulta privo di aree con classificazione scarsa cui consegue il divieto di balneazione partendo da nord Capaccio ha una qualità del mare ovunque eccellente ad eccezione del tratto di Ponte di Ferro qui la classificazione è buona eccellenza ovunque ad Agropoli Castellabate Monte Corice San Mauro Cilento Casalvelino Pollica Scea Pisciotta Camerota e Centola quest'ultimo insieme ad Agropoli fanno un passo avanti fino allo scorso anno infatti in entrambi i casi foce testene per Agropoli e Calafetente per Centola Palinuro vi erano dei punti che non raggiungevano il massimo dei voti per ritrovare un tratto che non ottiene la sufficienza bisogna arrivare nel comune di San Giovanni a Piro a Scario perla del territorio l'acqua è addirittura classificata come scarsa dalla radice del molo di sottoflutto fino a Torre dell'Oliva facendo un passo indietro rispetto al passato eccellenza anche a Santa Marina e Vibonati mentre Sapri ottiene il massimo dei voti in 4 punti su 5 il litorale del lungomare infatti come negli ultimi anni è buono venerdì in unica data la parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei del quartiere Mariconda a Saverno organizza la terza edizione del presepe vivente dal titolo Il presepe della salvezza l'evento che si terrà verso il teatro parrocchiale unico nel suo genere prevede un percorso guidato di circa 45 minuti a partire dai 17.30 nella rappresentazione teatrale della storia della salvezza Natale insieme a Ponte Cagnano Faiano tanti eventi per la rassegna promossa dal comune di Picentini mercatini animazione gusto shopping e serate a tema musica e di intrattenimento emozioni e divertimento in una città tutta da vivere andiamo ti divertirai te lo prometto ci sono ora le previsioni del tempo e poi dopo la pubblicità torneremo insieme per aprire l'ampia pagina dello sport tra poco in collaborazione con che dici a Natale ce lo regaliamo un tv grande grande per guardarci film nei due soli eh ma e regala tua mamma tranquilla expert gruppo somma dà più valore al Natale tantissimi sconti per te così fai tutti i regali che vuoi e li paghi in 10 o 20 mesi a tasso zero expert gruppo somma ora anche alle cotoniere grazie expert gli esperti siamo noi nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti revisioni per domani al mattino sulle coste schierite alternate a nudi sparsi in montagna cieli coperti con nevicate deboli nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna cieli coperti con nevicate deboli previsioni del tempo fornite da 3b meteo ed eccoci alla pagina dello sport fermo il campionato di serie B l'attenzione è tutta spostata sul calcio mercato la salernitana la salernitana tiene duro per i suoi bomber code donnarumma per i quali lotito ha fissato i prezzi visto che le richieste non mancano mentre prova a soffiare al Perugia un estremo difensore vediamo i dettagli nel primo servizio iniziano le grandi manovre la salernitana è vigile sul mercato non ha fretta ma intanto piazza praticamente già il primo colpo in uscita Lorenzo Laverone è virtualmente un giocatore dell'Avellino il terzino destro ex Vicenza si trasferirà armi e bagagli alla corte del presidente Taccone in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza il club Berpino ha fatto anche un nuovo timido sondaggio per Alfredo Donnarumma da sempre stimatissimo dal DS Enzo De Vito lotito però ha fissato un prezzo considerato troppo alto per i lupi quasi 2 milioni di euro per l'ex teramo ci pensa invece il Pisa della nuova proprietà che fa capo a Giuseppe Corrado magnate dei cinema multisala la salernitana vuole trattenere sia Donnarumma sia soprattutto Massimo Coda ma è chiaro che dovessero arrivare offerte che non si possono rifiutare il discorso o meglio i discorsi cambierebbero per l'ex Parma la salernitana chiede 3 milioni di euro ma difficilmente il bomber si muoverà da Salerno almeno fino a fine stagione le manovre dicevamo a dispetto delle dichiarazioni di facciata c'è fermento in casa Granata in cui si vive un'aria di calma apparente uscite per entrate insomma considerando anche la fatidica lista dei 18 over obbligatoria in serie cadetta in Porta Terracciano potrebbe trovare un nuovo alter ego nel caso in cui si dovesse piazzare Liverani in Lega Pro infatti il club Granata è a caccia di un portiere che possa giocarsela con il numero 1 Granata oltre al profilo di Mauro Vigorito spunta la suggestione Alberto Brignoli l'esperto portiere di proprietà della Juventus è in prestito da un anno a Leganes in Liga la massima serie spagnola in terra iberica però il numero 1 ex della Ternana non sta trovando spazio e dovrebbe tornare in madre patria sulle sue tracce però c'è forte l'interesse anche del Perugia che pare sia in netto vantaggio sulla salernitana Brignoli 26 anni ha già all'attivo una grossa esperienza in serie cadetta proprio con la maglia delle fere dove oggi sarà ufficializzato Danilo Pagni come direttore sportivo del club di Longarini la partenza di Laverone apre una crepa sulla corsia di destra piace Cancellotti della Juve Stabia Fabiani vorrebbe imbastire uno scambio con Caccavallo ma le Vespe non vorrebbero privarsi del loro miglior terzino destro che sta facendo benissimo nel 4-3-3 di Gaetano Fontana di prospettiva invece l'eventuale ingaggio di Carmine Seto la classe 99 giovani di serie del Cesena che ha interesse a fare cassa in difesa andrà comunque via Raffaele Schiavi il problema resta il suo ingaggio che frena eventuale avance per il possente difensore centrale originario di Cava di Tirreni il Parmanicchia il Foggia Riflette il Venezia passa la mano certamente Schiavi non rientra più nel progetto salernitana a Carpice Blanchard in rotta con Castori l'ex Frosinone si porta dietro un ingaggio di circa 280.000 euro dalla serie A il Verona ha frenato le sue avance ma la salernitana dovrebbe prima liberarsi dello stesso stipendio o quasi di Schiavi piace anche Gennaro Scognamiglio ma il Novara non sembra intenzionato a privarsene si valuta il profilo di Lambrughi del Livorno da Pescara intanto filtrano possibilità per Andrea Coda difensore centrale che non sta trovando spazio con Oddo e dell'attaccante Alessandro Polidori in forza all'Arezzo ma di proprietà dei Delfini 7 reti in terra retina da punta centrale dalla Lazio potrebbero arrivare il centrocampista Minala e il terzino sinistro Vinicius che stanno svernando a Formello capitolo centrocampisti il Modena spara alto per Giorico oltre 2 milioni di euro il prezzo del suo cartellino il paymaker è di valore ma probabilmente non risponde alla perfezione all'identikit del regista che piace a Bollini la salernitana ha proposto Ronaldo al Bari che ha glessato come jolly del centrocampo si sonda la pista di noia di proprietà del Bari capace di coprire il ruolo di play in mezzala sinistra e terzino mancino Monari è la valigia pronta da Cagliari sulle sue tracce c'è forte anche il Venezia di Perinetti e a centrocampo il primo acquisto del 2017 per la salernitana potrebbe essere Mose Soger fermo da quasi due mesi dopo l'infortunio rimediato durante la partita con il Latina in terra Pontina per gli altri innesti sarà decisiva anche la eventuale uscita di alcuni calciatori Ronaldo e della Rocca su tutti un rinforzo in casa qualcuno da reperire sul mercato a centrocampo la salernitana ha delineato la strategia da seguire per rinforzare un reparto che è apparso a corto di uomini fin dall'inizio della stagione proprio come era stato in quella precedente poche soluzioni per un settore nevralgico in cui ci sarebbe al contrario bisogno di forze fresche in continuazione per reggere i ritmi di un campionato massacrante ed invece la salernitana è andata anche questa volta controcorrente preferendo dosare gli uomini da inserire in lista Sannino prima Bollini poi non hanno avuto bisogno di troppo tempo per imparare a memoria i nomi dei centrocampisti a disposizione Busellato Oggier Ronaldo della Rocca Zito sono i cinque uomini su cui hanno potuto contare i due allenatori che si sono alternati sulla panca granata Sannino ha provato a riciclare anche Rosina da Mezzala mentre solo in Coppa Italia ha utilizzato Grillo non inserito nella lista degli over per il campionato poche soluzioni a disposizione non sono un bene anche perché squalifiche ed infortuni sono variabili di cui si sarebbe dovuto tener conto e che puntualmente si sono verificate basti pensare che da quasi due mesi ha Otto Moses Oggier l'unico under del reparto mediano il più utile nella passata stagione che in quella attuale non ha ancora cominciato con lo stesso impatto anche per via di una collocazione diversa in campo Sannino lo vedeva centrale poi lo ha spostato da Mezzala il ganese ancora fermo ai boxe e rientrerà se tutto andrà bene a fine mese non prima intanto Bollini aspetta forze fresche ma gli obiettivi saranno stabiliti anche in base alle uscite Ronaldo non ha convinto uno stipendio alto che Lutito non vorrebbe più collarsi in toto essendo il brasiliano di proprietà della Lazio ed è stato proposto al Bari Latina e Provercelli sono da tempo alla finestra ma solo i pugliesi avrebbero la forza economica per sostenere il suo stipendio Della Rocca piace al Vicenzi al Cesena ma anche negli Stati Uniti dove il suo agente ed amico ha già portato diversi calciatori Ronaldo e Della Rocca hanno spesso giocato insieme nel trio mediano di Bollini ma hanno reso di più quando sono stati divisi entrambi sembrano poter giocare solo davanti alla difesa ragion per cui dovessero restare in tandem la Salernitana avrebbe bisogno di giocatori bravi ad attaccare gli spazi mezze ali dunque più che cuscitori di gioco per intenderci il mercato è appena agli inizi la Salernitana una volta le sue mosse In attesa dei colpi di mercato in casa Granata è cominciato col botto il 2017 per la Givova Scafati parliamo del campionato dietro i basket ieri sera al Palavangano andava in scena il testa coda tra la formazione di Perdichizzi e la capolista Biel ebbene la squadra canarina ha vinto anche nettamente trascinata da Baldassarri a Mannato e Naimi Devo fare complimenti prima di tutto alla squadra al pubblico che ci ha spinti verso questa impresa perché di impresa si tratta giocare con un solo straniero senza guardie sicuramente di impresa si tratta perché in campo abbiamo messo il cuore l'anima perché non abbiamo smesso mai di credere di poterla portare a casa perché abbiamo difeso per come abbiamo fatto nelle ultime sei partite sette partite perché abbiamo sopperito all'assenza di Wilton Johnson al problema alla faccia di Fantoni al problema muscolare di Baldassar l'abbiamo fatto di squadra andando là dove volevamo andare per creare i nostri vantaggi l'abbiamo fatto di squadra prendendo tiri con ritmo tiri in transizione aumentando il numero di possessi da quello che avevo chiesto alla squadra sicuramente a metà campo in queste condizioni attuali facciamo fatica se riusciamo a giocare in transizione in campo aperto diventiamo spesso immarcabili perché abbiamo più punti di riferimento da innescare è stata una partita dura difficile altronde quando gioca contro Biella che ha perso due partite in tutto il giro all'andata è normale che devi compiere un'impresa per batterla poi specialmente in queste condizioni era difficile però noi ci abbiamo voluto credere ci siamo attaccati alla nostra difesa ci siamo attaccati alla voglia di voler vincere a rimbalzo contro la migliore squadra a rimbalzo offensivo e in generale a rimbalzo della Lega e il fatto di aver vinto di aver dominato anche a rimbalzo è un chiaro segnale dell'attenzione che abbiamo messo nel fare le piccole cose siamo andati dove c'erano vantaggi da prendere siamo stati sfortunati perché secondo me il quarto fallo di Naimino era fallo un po' ci hanno condizionati hanno concesso loro di rientrare poi nell'ultimo quarto ho deciso all'inizio dopo il primo possesso difensivo di metterlo dentro ho detto creiamo il vantaggio vediamo se ci riusciamo e poi gestiamo penso che sia stato alla fine quella qualcosa in più che ci siamo ritrovati alla fine perché l'ho gestito poi con tutta tranquillità perché avevo paura di andare sotto a livello emotivo mentale contro una squadra forte come Biella l'avremmo sentito ho detto se dobbiamo perdere perdiamo nel modo migliore col quintetto migliore mettiamo dentro Naimi a rischio quinto fallo e cerchiamo di allungare per poi gestire il finale altro break con la pubblicità tra poco con le ultime notizie di nuovo insieme torniamo ad occuparci di calcio ci occupiamo di Lega Pro della Paganese si scalda il mercato sull'asse Pagani-Foggia perché la formazione azzurro-stellata si appresta a salutare due pezzi pregiati Dele e Cicerelli che viaggiano verso la formazione allenata da Stroppa mentre dal Foggia arriverà alla corte di Grassadonia lo spagnolo Riverola ex del Barcellona che ricoprerà il ruolo di centrocampista nella squadra azzurro-stellata da cui è in partenza anche Majorano per il resto il ADS Ferrigno cerca un difensore centrale ed un terzino per completare la difesa a disposizione di Gianluca Grassadonia prima della ripresa del campionato prevista per il 21 di gennaio era questa l'ultima notizia grazie per la cortesia attenzione a risentirci grazie per la corte di Grassadonia tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie per la corte di Grassadonia 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 grazie per la corte di Grassadonia